Si è svolta questa mattina l'iniziativa benefica che ha visto la Polizia di Stato di Cosenza unita nel segno della solidarietà in favore dei bambini degenti nel reparto pediatrico dell'ospedale dell'Annunziata. Il personale della Polizia di Stato ha distribuito doni e gadget ai bambini degenti e a quelli in attesa di visite ambulatoriali alla presenza del personale sanitario. Un momento carico di gioia e commozione a testimoniare la vicinanza delle istituzioni non solo ai cittadini del domani e alle loro famiglie ma anche al personale sanitario tutto che con grande senso di responsabilità si dedica quotidianamente ai piccoli pazienti. È un'iniziativa voluta fortemente dalle poliziotte e le poliziotte della Questura che hanno loro sponte fatto una colletta raccogliendo dei fondi con cui hanno comprato giocattoli e dolciumi per le calze dei bambini. Portare un sorriso che le colleghe porteranno ai bambini che vivono un disagio perché il bambino ricoverato in un giorno che noi sappiamo essere un giorno per i bimbi di gioia, di sorpresa, di meraviglia, ci si sveglia in attesa di trovare i doni, portare un sorriso, portare un pensiero è sicuramente un gesto di valore ma che ci restituisce, come lei ha detto, molta felicità. Tutti noi siamo padri e madri e quindi tutti noi sappiamo quanto sia brutto avere un bimbo ricoverato in ospedale. I poliziotti hanno poi fatto visita a quattro case famiglie della provincia. Dove ci sono bimbi che vivono un altro disagio e a cui noi pensiamo oggi in questa giornata di portare un sorriso, una carezza.